Nuovi orari per gli accessi alle vaccinazioni, li comunica l'ASL di Biella, accessi diretti solo dalle 9 alle 17 e per informazioni o richiedere di anticipare la terza dose si potrà accedere solo tra le 12.30 e le 14.30. L'azienda ospedaliera fa sapere che il numero di vaccini erogati ogni giorno è già il doppio rispetto a prima di Natale, con oltre 1.700 persone vaccinate e sono raddoppiate anche le prime dosi, passate da circa 70 al giorno a punte di oltre 170, come nel caso dello scorso venerdì 7 gennaio con 185. La capacità vaccinale è salita quindi, anche grazie all'apertura di un hub aggiuntivo in ospedale presso la piastra A, oltre a quello già presente presso il centro prelievi, e la prossima settimana è previsto un ulteriore incremento di attività. In relazione all'aumento dei flussi di cittadini presso i centri, si è reso necessario ottimizzare l'organizzazione. Gli accessi diretti sono previsti solo tra le 9 e le 17, per le prime dosi, per coloro ai quali scade il Green Pass entro le 72 ore, e per i soggetti con obbligo vaccinale, come il personale sanitario, scolastico, del comparto della difesa, forze dell'ordine, sicurezza e soccorso pubblico. Per informazioni richieste di anticipare la terza dose, per coloro che hanno già ricevuto l'appuntamento tramite SMS, è possibile farlo esclusivamente tra le 12.30 e le 14.30, presso i centri vaccinali di Biverbanca, provincia di Biella, e presso la Casa della Salute a Cossato. Per la terza dose occorre, e ripetiamo, attendere il messaggio inviato tramite SMS, che comunque perverrà in tempo utile entro la scadenza del Green Pass.